Il sindaco di Pietra Camela, Michele Petraccia, ha sottolineato il grave danno che ha recato la chiusura della cabinovia anche d'estate e ha posto l'attenzione sul mancato accordo tra le parti. Della stessa linea è il presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura. Delle verità, a me spiace per il lamento, giustamente, la sofferenza delle comunità di quella zona perché solo per delle impunture, solo perché chi governa per dispetto ha generato il fermo della cabinovia e di altri servizi. Perché lo vedete, è un atteggiamento diverso dai mondi gemelli, dove ci sono i concittadini di quelle zone, dove ci sono gli operatori di quelle zone, dove ci sono la stessa amministrazione provinciale, regionale, dove lì c'è un progetto che è partito, che funziona tutto, non si capisce perché gli enti sono gli stessi e invece nella nostra zona montana di Pietra Camela e di Fanadriano non si riesce a fare la stessa cosa. Perché la differenza la fanno gli esseri umani. C'è chi governa per amore dell'altro e con il cuore e c'è chi governa per fare il dispetto, ma il dispetto è fino a se stesso, tutto passerà, riconvinceremo una storia nuova. Inoltre Diego di Bonaventura si sofferma sulle attività che ancora una volta sono rimaste ulteriormente danneggiate da questa chiusura. Conoscendo le persone di quel posto ho capito che questa stagione era quasi impossibile ripartire perché c'è quasi la voglia di creare il disagio, ma questo disagio sta per terminare una volta per tutte perché è una storia che è oramai infinita di 20-30 anni, finirà perché adesso chiuderemo la vendita di tutti gli impianti con dei gestori nuovi e ricominceremo veramente una storia diversa. Grazie.